E benvenuti ragazzi e benvenuti qui in questa nuova serie degli SCP Oggi ragazzi ad una visita della scena di contenimento dell'SCP 173 Prima di iniziare lascio qui in alto a destra il canale di un mio amico Anche un video collaborazione con lui Sempre nello stesso server Ok ragazzi Qua vedo una struttura che dovremmo esaminare E troviamo una cassa Con all'interno uno stack di costrette di magliare cotta Poi io direi anche di rimettere la luce Perché è troppo buio E vedo che tra queste stanze Io direi di andare di qua Perché c'è scritto stanze di emergenza E troviamo la power room Con all'interno delle leve che ci permettono di rimettere la luce Ok 1, 2, 3, 4 In teoria la luce si è rimessa Vediamo un po' Esattamente Continuiamo ad esplorare E troviamo Ah la stanza dove ci possiamo armare Solo che abbiamo bisogno di una keycard di livello 1 Ah qua troviamo la stanza dell'emergenza Con una sella gaming stranamente Un tavolo, un orologio, altre lampade Un dipinto e una tv Va bene E anche una cassa Attenzione Troviamo una keycard di livello 1 ragazzi Quindi adesso possiamo aprire questa stanza in teoria Vediamo un po' Sì l'abbiamo aperta E troviamo Uuuuh Un'armatura Un corsaletto Poi vediamo un po' Di qua cosa troviamo Una spada Un arco Solo che Ah no Non un arco Una pistola Un P90 A quanto sembra Ci prendiamo anche i colpi che ci servono Altrimenti non possiamo sparare E di qua Uuuuh Troviamo anche una keycard di livello 2 ragazzi Molto buona Parecchio molto buona Ok ci mettiamo anche l'armatura Ci mettiamo anche l'armatura E andiamo a Andiamo a vedere la città di contenimento dell'SCP 173 Vediamo un po' Io direi di andare di qua perchè Il distinto mi dice di andare di qui Ci sono anche dei cartelli Contenimenti speciali E CASD Io direi di andare anche nel Contenimenti speciali Uuuuh ragazzi Ci sono anche un bot di SCP qua 372 1048 Un bot di SCP ragazzi Che visiteremo nei prossimi episodi Oddio quanti SCP Però noi Dobbiamo Dobbiamo trovare l'SCP 173 Qua c'è anche l'SCP 049 106 Qualche altro SCP c'è Uuuuh 096 lo vuole vedere Sarebbe bello però Ragazzi Come visitare l'SCP 173 Card Richiesta di livello 2 Che noi teniamo Quindi possiamo aprire Una E due Oddio ragazzi Rivedo Ok Vi sto guardando Mi potete chillare No c'è un altro là Non va bene Non mi potete chillare Perchè vi sto guardando Questa cosa ragazzi Non va bene perchè Io mi ricordavo Che gli SCP L'SCP 173 Ne erano Tipo un bot No un bot Ne erano Un Era uno Forse Durante gli esperimenti Sono uscito a dubbicare L'SCP 173 Uccidiamo anche Questi ultimi due Ok Manchi solo te Penso Forse tu sei L'SCP 173 Originale No Non sei l'originale E troviamo Una Keycard di Livello 3 Ragazzi Molto buono Ok ragazzi Questo episodio Questo primo episodio Finisce qui Volevo fare Volevo Pubblicare questo video Per dirvi che Sto iniziando Una nuova serie E penso che Nel prossimo episodio Ci Vediamo Vediamo La serie DELL'SCP 096 E cioè ragazzi Noi ci becchiamo Nel prossimo video DELL'SCP Bella raga E in più ragazzi Vi avviso Anche Forse Nel prossimo Giorni Farò anche Una live Su minecraft Quindi Non mancate Non mancatela